buongiorno buongiorno a tutti guardate che bella alba direzione roma non potevo non condividere uno spettacolo bello cos'è non potevo non potevo siamo quasi vicino a casa alla maison finalmente è finita pure questa settimana di giro in giro è finita adesso vediamo un po qualche scrocio di panorama pitturato di giallo di rosso dal cielo dal sole la natura che effetti può fare la natura bellissima la puoi vedere il monte sorate il monte sorate lo vedete sotto una certa angolazione sembra il profilo di benito mussolini sembra profilo qua sotto c'è altevere se riuscire a prendere non so non credo i mille colori del cielo sono finiti oramai dai non vi annoio più di tanto buongiorno a tutti i miei seguaci i miei iscritti i seguaci i miei iscritti ci vediamo prossimamente con un altro video in diretta ciao buongiorno a tutti Elia il viandante solitario li saluta